Ciao a tutti ragazzi e bentornati da E-Telepacks nella serie app strane e pazzesche che siano mai state sviluppate per Android Oggi l'applicazione che andremo a vedere si chiama Strong Anti Mosquito ed è questa qua L'applicazione se voi pensate che sia un'applicazione che serve a spiaccicare tutti gli insetti con il vostro smartphone siete un po' fuori strada e ve lo dico subito Però non ci siete andati molto lontano, infatti questa applicazione promette di tenere lontani da voi gli insetti come le zanzare ad esempio Abbiamo la funzione indoor che se viene attivata promette di tenere lontani gli insetti nella vostra stanza E infatti sentiremo un leggero, quasi impercettibile suono uscire dalle casse del vostro smartphone Poi c'è la funzione outdoor che promette di tenere lontani gli insetti oltre la vostra stanza Quindi andrete ad ampliare questo anti zanzara se così vogliamo definirlo E suono molto più alto come avrete già sentito in questo momento Però l'ho disattivato subito perché altrimenti fa venire un gran mal di testa L'applicazione diciamo che è all'incirca tutta qua L'unica funzione che chiaramente doveva essere implementata, infatti lo è stato, è la funzione notturna che troviamo qua Infatti suppongo che questa applicazione verrà usata principalmente di notte quando le zanzare mangiano le persone Quindi per questo video è tutto ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Se volete vedere altri video oppure comunque rimanere aggiornati sui prossimi video Iscrivetevi e per questo video è tutto Ciao ciao dai Televacs Ciao ciao Grazie a tutti